Sarà applicata anche a Comiso l'esenzione dalle superfici tassabili dell'intera area aziendale che produce nel proprio ciclo di lavorazione rifiuti speciali, smaltiti quindi a pagamento dall'impresa e non a carico del servizio di raccolta comunale. Sotto i riflettori l'interpretazione della normativa Tari per le categorie di imprese che producono abitualmente rifiuti speciali. La decisione è stata assunta dopo un costruttivo confronto con la CNA territoriale, rappresentata dal presidente Giovanni Calogero e dal responsabile organizzativo Andrea Di Stefano alla presenza del responsabile provinciale Ambiente e Sicurezza Giuseppe Brullo e l'amministrazione comunale con il sindaco Filippo Spataro e l'assessore al bilancio e tributi Gaetano Gaglio. Le parti dopo aver approfondito i contenuti della normativa hanno convenuto sull'adozione del criterio di esenzione e della tassazione delle aree produttive di rifiuti speciali. Da tempo la CNA a livello provinciale si adopera per fare in modo che gli enti locali e territoriali applicino quanto già previsto dalla legislazione nazionale e confermato dalle circolari ministeriali esplicative. Il responsabile Ambiente e Sicurezza Brullo spiega che per fruire della detassazione le imprese interessate dovranno presentare un'apposita istanza ai competenti uffici comunali affinché l'agevolazione possa diventare effettivamente operativa. La sede territoriale di Comiso si rende disponibile a fornire sostegno alle piccole e medie imprese nell'attuazione di questo percorso.